Domenica 6 giugno la solennità del Corpus Domini è stata vissuta a livello parrocchiale, senza la tradizionale processione secondo le disposizioni anti-Covid, ma con le messe domenicali e l'adorazione personale e comunitaria. Alle 9.30 di venerdì 11 giugno, in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù e della giornata di santificazione del clero, sarà nella diocesi Lucera Troia, tra sacerdoti presso il centro comunità Giovanni Paolo II a Lucera, Sua Eccellenza Monsignor Giacomo Cirulli, che è vescovo di Teano e di Alife in Campania, che terrà un Alexio sull'amore scaccia il timore, a cui seguirà un breve tempo di silenziosa adorazione eucaristica e poi la benedizione. Anche nel pomeriggio di quella giornata sarà bene proporre, secondo le indicazioni del vescovo, in parrocchia e nelle varie chiese l'adorazione eucaristica per la santificazione dei sacerdoti.